Con 1038 voti Civici Fano entra in Consiglio Comunale e probabilmente avrà anche un assessorato. Rossi, immagino sia soddisfatto. Sì, una bella soddisfazione innanzitutto aver aiutato Luca e ad aver garantito con il nostro 3,5% la vittoria al primo turno. Era una bella soddisfazione per Luca ma per tutta la città di Fano. Quindi ringraziamo gli elettori fanesi che hanno dato fiducia a Civici Fano che è l'emanazione del nostro movimento Civici Marche qua nella città di Fano. Un grazie anche a tutti i candidati perché ognuno di loro ha fatto la propria parte e ha contribuito a questo successo. Loredana, lei è risultata la più votata della lista Civici Fano, 52 anni, è laureata in giurisprudenza e è un master in criminologia. Lavora da 26 anni per il Ministero della Giustizia ed è sostituto commissario della Polizia Penitenziaria presso il carcere di Pesaro dove è coordinatore del reparto femminile. L'esperienza nel settore sicurezza ora la metterà a disposizione della nuova amministrazione e della città? Sì, certamente. Intanto colgo l'occasione per salutare e ringraziare e dire mille volte grazie ai cittadini fanesi che hanno scelto la nostra lista perché sono stati 1038 i voti e sono veramente tanti per una lista che è nata due mesi fa, che però ha un'esperienza già nella regione Marche. I cittadini di Fano che hanno espresso la preferenza per noi hanno colto il nostro entusiasmo, la nostra motivazione in quanto siamo tutti provenienti, i candidati erano tutti provenienti dal mondo del lavoro ma anche che comunque hanno fatto parte e quindi siamo riusciti a trasmettere in due mesi con un lavoro porta a porta proprio questo entusiasmo. Abbiamo anche riportato persone che non volevano votare, quindi questo ci fa ancora più orgogliosi. Oltre al tema della sicurezza di cui costituisce il mio lavoro da 26 anni, lo faccio veramente con tanta passione perché è un lavoro dove si lavora con la sofferenza, con il disagio e quindi è un lavoro complesso, però vorrò mettere anche il mio entusiasmo nei consigli di quartiere perché per me costituiscono uno dei punti del programma di Luca Serfilippi che secondo me aiuteranno a ricollegare i cittadini alla politica e permetteranno ai cittadini di conoscere quelle che sono le decisioni che prima venivano prese dall'alto. Adesso l'obiettivo è che le decisioni partano, le proposte partano dal basso e arrivino in comune. L'obiettivo di questi consigli deve essere soltanto non portare quelle che sono le problematiche ma anche quelle che sono i bisogni e delle preposte positive, quindi non solo il negativo ma il positivo. Quindi cercheremo di lavorare trasversalmente dando una mano a tutta la coalizione e noi con tutte le nostre competenze che abbiamo nel nostro gruppo.